Ci invitano a uno stage a Napoli. Dopo le prime tre partite non c'era un giocatore che si poteva vedere, no? E allora dico ai miei due osservatori, andiamo di lì, che torniamo, dobbiamo tornare a Genova, siamo in macchina. Ma no, dai Claudio, ma facciamo brutta figura. Dico, vabbè, sì, è vero, hai ragione. L'ultimo stage, dopo dieci minuti c'è un biondino alto, già bello magro, ma alto, eccetera, al quale arriva una palla lunga dalla difesa avversaria, lui difensore, fa finta di darci di testa, la stoppa col petto, la mette giù col piattone e fa un lancio di 40 metri e becca sul naso un suo compagno. L'abbiamo preso così, Mimmo. Mimmo Crescito, sono andato subito, ma veramente, adesso non è che... Sono andato dai dirigenti, gli ho detto, dico, chi è questo qui, come si chiama? Crescito Mimmo, perfetto, lo prendiamo subito. Grazie a tutti.